Intanto vi do il vicepresidente Glelia Antonica che procederà per gli anni due. Qui sul palco invito Federico Bruno e Delia Andrini. Grazie. Complimenti ai miei ragazzi e grazie alla professoressa. Adesso la professoressa Enrica De Masi dovrebbe gentilmente premiare Jessica Forte e Arianna Galante. Grazie. C'è confusione sui libri. Sono qua? Ah no, sulle taglie. Sulle taglie. Professoressa Anna Le Manno per Gloria Lazzari e Federica Lucella. Grazie e complimenti. Adesso nuovamente Stefano Colazzo.